Ieri c'è stato l'incontro tra gli avvocati dei lavoratori interinali attiva, la regione e il comune di Pescara. Arriva anche una buona notizia che è quella di un nuovo bando. Siamo tutti impegnati a trovare una soluzione alle tante maestranze di attiva che fino ad oggi hanno svolto lavoro a tempo determinato attraverso le agenzie di lavoro. Il concorso che è stato espletato da ultimo peraltro non ha conseguito l'interezza della forza lavoro di cui aveva bisogno attivo e per il quale era stato attivato il concorso. Questo lascia spazi per altro lavoro a tempo determinato e a tempo parziale che comunque non è la regola che bisogna seguire. Però chiaramente per le esigenze straordinarie questa è la formula che continueremo ad attivare. Quella che vogliamo però fare è una procedura nuova, concorsuale nuova, prevedendo, specificando, significando, individuando in maniera più puntuale anche quelle che sono le premialità per chi già ha svolto un determinato servizio e che quindi dovrebbe avere dei punti di preferenza. Ecco, questo vogliamo fare, lo facciamo insieme con le istituzioni, insieme anche con i consulenti giuridici e amministrativi che a luogo potranno darci il loro contributo professionale.